Ecco qui il tartedore favorito, beh qui non si sbaglia, Lily King, Benedetta Pilato e Alia Atkinson, le corsie sono 3, 5 e 7. Allora Lily King ha già nelle braccia i 200 rana, mentre per Pilato e Atkinson è il dibutto in acqua. Direi che l'avvio migliore c'era la Atkinson in corsia 7, infatti la giamaicana che tucca per prima, Benedetta Pilato più o meno all'altezza della King, ma direi che adesso deve muoversi Benedetta se vuole andare a cercare la vittoria, si arriva sul traguardo con la King che va a vincere sulla Pilato e sulla Atkinson, ed è mostruoso il raccolto della King che chiude in 28.77 per la Pilato, 28.81 è il nuovo primato italiano. Ed è anche il nuovo primato europeo eguagliato per Benedetta Pilato, 28.81.